La Quattro Ore Non ci va di cantare l'Urucio dell'Umare, noi siamo i mascherimi lì, facciamo la tradinnovazione, dal 98 abbiamo scritto nuove canzoni sulla musica salentina e noi pensiamo che esiste una musica in Salento, quindi imparando la vecchia tradizione, sentendola dentro, subito dopo incominciamo a scriverla noi la tradizione perché ci stavano stretti, non ci andava a cantare le canzoni di Uccello Isi, non volevamo cantare le nostre canzoni. Tam è radice, radice di tamburo, di tamburreggio, di tamborra, soprattutto di ritmo, da lì partiamo per una ricerca sullo strumento tradizionale e partendo dal nostro strumento tradizionale. Ho avuto tamburreggio salentino, proprio perché abbiamo visto che tanti linguaggi sulla musica tradizionale oggi sono cambiati. Grazie. 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 Grazie.